L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ha accolto la richiesta della conferenza permanente disponendo al patrimonio dello Stato un complesso immobiliare confiscato a Battipaglia per essere destinato al Ministero della Giustizia per gli usi degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Salerno. La consegna avverrà il 19 giugno alle ore 12 quando l'Agenzia Nazionale consegnerà alla conferenza permanente il bene confiscato di Viale Inghilterra a Battipaglia. Saranno presenti i vertici della magistratura serenitana, il dirigente dell'Ambstech, il direttore dell'Agenzia del Demanio, il prefetto e la sindaca di Battipaglia.